Ciao a tutti, sono Dalila qui a ZBike di Mendrisio e oggi presentiamo il modello Atala Whistle B-Race. Questa bella bici front cioè ammortizzata solo sul davanti è una bici che può essere utilizzata sia per fare strada sia per fare percorsi su sterrato e strade bianche battute. È una bicicletta che è montata con il motore Bosch Performance CX di ultima generazione quindi quarta generazione con una bella batteria da 625 wattora quindi abbiamo un bel serbatoio da poter gestire durante il nostro percorso. Un bel cambio Sdram A12, l'SX ed è una bici appunto che può essere utilizzata in realtà da chiunque in base ovviamente alle necessità che si hanno. In più come potete vedere abbiamo montato il seggiolino su questa tipologia di telaio perché su questa tipologia di telaio che non ha snodi può essere montato tranquillamente questa tipologia di seggiolino che ha portata fino a 23 kg. Ovviamente durante il percorso possiamo andare a gestire i vari livelli di assistenza direttamente su questo schermino che fa parte sempre della famiglia Bosch dal quale appunto durante il nostro percorso possiamo andare a scegliere i vari livelli di assistenza e in più possiamo vedere i chilometri che abbiamo effettuato, i chilometri totali e anche i chilometri in residuo e in più dal tastino che abbiamo qui che è il walk assist schiacciando walk e tenendo premuto più ci dà l'assistenza alla camminata cioè ci serve quando appunto non pedaliamo ma dobbiamo spingere la bici per una rampa o per una salita